crei contenuti digitali e vuoi lavorare ovunque i pc desktop sono economici e potenti ma quando si tratta di portatili finisci col dover accettare dei compromessi il dell xps 15 è una piacevole eccezione e coniuga tutte quelle caratteristiche necessarie a fotografi videomaker in generale ai creatori di contenuti digitali in questa recensione non solo ti spiego come renderlo il miglior pc portatile per editing video 4k senza vendere un rene ma anche un trucchetto che ti renderà la vita molto più semplice dopo la sigla ciao sono mariano di videozappo.com questo canale tratta di fotografia e di video troverai guide tutorial e prove proprio come quella di oggi che in contiene anche una piccola guida se non l'hai già fatto iscriviti al canale usando il pulsante rosso qua sotto e schiaccia la campanella per attivare tutte le notifiche in modo da non perdere i prossimi video per tutti i link ai prodotti e alle risorse di cui ti parlo in questo video come al solito da uno sguardo alla descrizione qui sotto dove trovi anche il link al mio negozio su amazon ci sono tanti articoli tutti commentati che ho provato personalmente puoi acquistare tranquillo evitando delusioni a te non costa neanche un centesimo in più e dare una mano al mio canale a continuare a realizzare contenuti gratuiti proprio come quello che stai guardando il portatile perfetto per il creatore di contenuti deve avere una serie di caratteristiche che purtroppo finiscono con l'andare in contrapposizione l'una con l'altra io ero alla ricerca di un portatile relativamente leggero con un monitor da almeno 15 pollici perché se non hai come me una vista perfetta il 13 pollici può davvero stancare molto se lo usi in maniera molto prolungata volevo poi un portatile che avesse lo slot per le schede sd perché non c'è nulla di peggio di trovarsi in giro dover riguardare il girato o fare un backup e non avere a disposizione il dangle per collegare la scheda ecco con il dell xps 15 questo non succede perché hai qui di lato uno slot per le schede sd comodissimo e veloce deve poi avere una scheda grafica separata perché questo nell'editing video ma anche con i programmi di fotoritocco come lightroom photoshop ma ormai anche illuminare molti altri la scheda grafica assume fondamentale importanza e avevo poi bisogno di una quantità di ram adeguata io ho preso un portatile con 16 gigabyte di ram ti spiego tra un attimo come puoi fare per renderlo ancora più performante considera poi che il portatile lo userai tendenzialmente in viaggio e deve essere dunque facile da ricaricare il dell xps 15 si può caricare con l'usb c da ciascuna delle quattro porte usb cd cui dispone ti viene fornito un alimentatore che è un discreto mattone e piuttosto scomodo da portarsi in giro ma fornisce tutti i 130 watt necessari a questo computer ma con un molto più compatto alimentatore che ti consenta il power delivery e che abbia una potenza di almeno 60 watt puoi comunque ricaricarlo il computer non andrà al massimo della sua velocità quando è collegato all'alimentatore ma comunque posso assicurarti che già con questo piccolo alimentatore che oltretutto può caricare anche oltre al portatile anche il cellulare o altri dispositivi usb ho risolto alla grande ed è parecchio più leggero sempre quando sei in giro ti capiterà di dover collegare il computer magari ad un monitor esterno e oramai le uniche porte rimaste sui portatili sono le usb c o le thunderbolt e nel però ti offre questo piccolo d'angolo che ha sia la usb standard che l'hdmi altra caratteristica che mi è piaciuta moltissimo di questo del è lo schermo che praticamente tutta immagine la cornice esterna è estremamente ridotta e questo praticamente mi consente di avere un 15 pollici nella dimensione siano di un 14 pollici ad un peso peraltro molto ridotto perché siamo ampiamente sotto ai 2 kg diciamo che arrivo a 2 kg complessivi portandomi anche il d'angolo e l'alimentatore quindi è piuttosto leggero da questo punto di vista la batteria dura più che a sufficienza e altra cosa che mi interessava era una qualità dell'audio discreta ti faccio sentire gli altoparlanti incorporati le tue foto hanno colori un po troppo smorti anche se in post produzione si può fare tantissimo e non siamo ancora con il volume al massimo io volevo un buon audio perché se è vero che puoi usare le cuffie e qui abbiamo il connettore dedicato alle cuffie ma tante volte è più comodo lavorare con gli altoparlanti incorporati e questo specie quando non sei interessato appunto alla qualità dell'audio perché non stai sistemando l'audio ma stai semplicemente montando e stare tutto il tempo con le cuffie a me personalmente dava un po fastidio la qualità del display è eccellente i colori sono estremamente accurati e piuttosto luminoso e anche di giorno riesci a lavorare tranquillamente anche in esterni certo se devi fare fotoritocco color correction un ambiente almeno un pochino oscurato è ampiamente consigliabile il touchpad è comodissimo preciso il click funziona bene non è all'altezza di apple ma insomma quasi quasi ci siamo la tastiera e retroilluminata e di conseguenza puoi lavorare tranquillamente anche al buio completo io l'unica cosa che trovo un pochino scomoda è questo bordo che leggermente troppo affilato è molto bello da vedere piacevole al tatto ma quando stai parecchio a scrivere specialmente se non hai una manica insomma se stai in maniche corte il tenerlo appoggiato qua sul sul polso dopo un pochino segna segna un po diciamo è un po faticoso ma insomma nulla di particolarmente grave prima di vedere come scegliere la tua configurazione metti un bel like a questo video e seguimi su instagram perché almeno tre volte a settimana pubblico una foto e ti racconto la storia che ha portato alla realizzazione di quello scatto mi trovi come video zappo così come su tutti gli altri social in descrizione ti lascio il link al sito di dell dove puoi scegliere la tua configurazione dal sito di dell devi come prima cosa decidere se sei un privato o un'azienda e le configurazioni disponibili per questo xps 15 sono diverse ed alcune di quelle disponibili per le partite iva non esistono per i privati in ogni caso diciamo che hai una partita iva e quindi andiamo qua per il lavoro prendiamo ovviamente il dell xps io preferisco il monitor da 15 pollici non ti far ingannare da queste due configurazioni che hanno lo schermo in 16 noni e sono i modelli dello scorso anno li riconosci chiaramente appunto dallo schermo il nuovo xps 15 e anche il 13 hanno lo schermo in 16 decimi e questa cosa t'assicuro è comodissima avere un pochino più di spazio in verticale è molto utile e soprattutto nel vecchio modello questo spazio era sprecato invece nel nuovo modello è utilizzato io ti suggerisco di prendere il modello di base che già nella configurazione standard monta un processore i7 con 16 giga di ram e un disco da un terabyte per il monitor personalmente preferisco il full hd il 4k di dell è eccellente è sempre opaco quindi antiriflesso i colori sono ottimi ma consuma molto di più e io tutta questa utilità nell'avere un 4k che peraltro è touch io non la vedo e il consumo di batteria è rilevantemente superiore per cui opinione personale e consiglio meglio il full hd che ovviamente costa anche di meno volendo poi personalizzare questa configurazione purtroppo del non ti consente più di aggiornare la memoria è una cosa che fino a poco tempo fa si poteva fare adesso per avere più memoria deve acquistare le configurazioni con processore e monitor più costosi non è la cosa che ti consiglio lo vediamo tra un istante e l'unica personalizzazione che a mio avviso vale senz'altro la pena fare è quella di scegliere la tastiera internazionale inglese ti sembrerà una cosa strana ma ti semplifica enormemente la vita perché gli shortcut da tastiera di praticamente tutti i software sono organizzati sul layout us international quello che ho scelto io mancano le accentate sono comunque facilissime da ottenere perché c'è il tasto apposito per aggiungere l'accento alla lettera che digiterai successivamente e di una comodità straordinaria specialmente se non hai problemi con l'inglese per cui avrai come nel mio caso windows in inglese e software in inglese tutto funzionerà meglio se non hai problemi con questa lingua t'assicuro che vivi molto più sereno e tutto funziona come ti aspetteresti quando cerchi un errore un problema hai necessità di un tutorial in inglese ne trovi a bizzef in italiano magari ne trovi uno o due e per quanto mi riguarda sei bello che pronto meno di duemila euro e ti porti a casa il tuo nuovo portatile quello che ho scelto io è un pochino più potente perché è un i9 che è disponibile tra le configurazioni per i privati ho scelto questo banalmente perché era in offerta se dovessi fare la stessa scelta oggi prenderei di sicuro lì 7 con 16 giga di ram e il monitor full hd che in pratica è la configurazione più economica di questo computer per renderlo più potente e adatto al montaggio video e alla fotografia il mio consiglio è quello di espanderlo autonomamente scegliere le configurazioni più costose di del non farà nient'altro che farti buttare dei soldi in realtà aggiungendo 32 o 64 gigabyte di ram a questa macchina spenderai qualcosa in meno di 250 euro e la cosa fantastica di questo computer è che anche un secondo slot per un disco in formato m2 quindi potrai nel montaggio video separare le tue clip dal sistema operativo e stessa cosa potrei fare per le foto un vantaggio enorme in termini di prestazioni ovviamente nessuno ti impedisce di utilizzare dello storage esterno collegandolo alle porte usb ct lascio in descrizione il link a qualche disco esterno ovviamente a stato solido che a prestazioni più che adeguate anche per questo velocissimo del fino a qualche settimana fa ti avrei detto che senza alcun dubbio era la macchina da comprare poi apple ha rilasciato il suo nuovo silicio m1 queste nuove macchine di apple hanno anche una strategia di marketing estremamente aggressiva per cui vengono vendute a prezzi molto contenuti rispetto specialmente a quello cui ci aveva abituato apple chiaramente una macchina windows ha dei grossi vantaggi da un certo punto di vista così come una macchina apple ne ha degli altri sotto altri punti di vista non voglio entrare in lotte di campanile perché questo genere di considerazioni non mi appartengono ma ovviamente in questo momento le nuove macchine di apple sono dei serissimi concorrenti dei pc di fascia medio alta considera che il chip m1 di apple ottiene un incremento di prestazioni e in generale un elevatissimo aumento dell'efficienza introducendo una nuova architettura che è quella arm ora ogni volta che si introduce una nuova architettura in un processore i problemi sono in agguato specialmente se ci lavori non è una cosa da prendere a cuor leggero in questo momento ci sono soltanto recensioni entusiastiche dei nuovi portatili di apple e anche del nuovo mac mini ma tieni presente che appunto c'è una nuova architettura ci siamo già scontrati con questo genere di situazione nel passato e ti dico per esperienza che la prima release di questi prodotti qualche problema in passato ce l'ha avuto non viene fuori evidentemente subito ci vuole un po di tempo perché questi spigoli vengano individuati ma di solito e nel passato questa cosa è sempre successa dunque se ci lavori riflettici bene perché rimanere bloccati potrebbe essere un grosso problema dunque al giorno d'oggi la competizione tra questa macchina di dell che quando l'ho presa per me era il non plus ultra e i nuovi apple con il silicio m1 sicuramente qualche dubbio me l'ho fatto venire ma se vuoi lavorarci in questo momento forse la cosa più saggia è questa macchina o un macbook pro con architettura intel giunto a questo punto mi vengono in mente due cose la prima è che stai pensando che aggiornare questo del possa essere troppo complicato quindi aggiungere la ram o il secondo dispositivo di storage sia eccessivamente difficile la seconda è che vuoi risparmiare tutta questa esigenza di viaggiare non ce l'hai e magari preferisci un desktop bene in entrambi questi casi ho la risposta per te e ti linko i relativi video qui accanto e nel primo commento intanto grazie per aver guardato questo video ma soprattutto ricordati non smettere mai di imparare ci vediamo nel prossimo video